Il direttore in mezzo e poi la cittadina di questo sistema. Allora, è un po' con 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 un po'. La facciamo indossare un attimo? La facciamo indossare un attimo. La facciamo indossare un attimo. Ok, se ci sediamo facciamo fare una ripresa anche a loro. Se ci accomodiamo una ripresa alle televisioni.